Salve amici appassionati di Football Manager, qui con voi come sempre c'è Mac94 e ovviamente Football Manager Italia Siamo qui con i nostri Football Manager 2017 per continuare la serie I migliori svincolati appunto su Football Manager 2017 e oggi andremo a vedere i terzini, sia sinistri che destri, infatti sarà una lista molto molto lunga ma perché appunto ho preferito unire entrambe le fasce Prima di iniziare però voglio dirvi una cosa che cercherò, se il tempo me lo permette, a fare un video in più alla settimana affinché non finiremo appunto queste due serie, cioè svincolati e Wonder Kids Quello che voglio chiedervi è, quando postare questo video? Sono indeciso fra sabato e domenica Questo perché? Perché voglio appunto terminare al più presto queste due serie per darvi una mano anche nelle vostre carriere e poi anche per riniziare finalmente i consigli di inizio carriera, quindi quando finiremo queste due serie inizierà anche quell'altra Cosa vorrei fare? Vuoi fare un giorno chievo, un giorno consigli sui migliori svincolati, un giorno chievo e un giorno consigli sui migliori Wonder Kids E appunto il giorno sono un po' indeciso fra sabato e domenica, visto che per me è bene o male indifferente Chiedo a voi, quando preferite, ovviamente il giorno che ha più voti vincerà e sarà postato quel giorno il video Detto questo mi raccomando, non scordatevi di votare qui sotto con un commento Andiamo subito a bomba a vedere questa immensa lista di svincolati Come sempre vi dico, questa volta erano veramente più di 100 i giocatori che vi avrei potuto mostrare Però li ho ridotti fino a 38, giusto per non fare un video di 3 ore e mezza Vi rispondo anche a un altro quesito che mi state facendo sempre sotto questo tipo di video Come fai a trovare questi giocatori? Eh raga, con santa pazienza, io li visiono a 1 a 1, ovviamente gli svincolati Cercando bene o male determinati parametri Questa volta ho messo accelerazione 9, velocità 9, contrasti 9 o 8, marcatura idem e cross 8 o 9 Ovviamente li ho messi così bassi perché? Perché ti può capitare quel giocatore che ha contrasti 13, marcatura 15, velocità 14 e 15 e poi cross 8 Però per questo ho provato a mettere questi parametri così bassi per trovare il miglior, il maggior numero di giocatori Per trovare appunto tutti i migliori Quindi quello che vi posso dire è che se volete anche voi cercare determinati giocatori armatevi di santa pazienza Ecco perché molto spesso dico io che per preparare un video ci metto tanto tempo Perché appunto cerco di fare le cose al meglio E soprattutto mi fa piacere cercare io determinati giocatori Lo stesso lo faccio per le carriere Quando si parla di mercato ci perdo giorni e giorni Perché tendo sempre a cercare il giocatore migliore Però per quanto concerne il mercato poi ne parleremo nel video di venerdì con il Chievo E risponderò anche ad altre domande che mi sono state fatte inerenti però al Chievo Qui non è diciamo il luogo giusto Detto ciò andiamo subito a bomba a vedere il primo Danilo Suarez che è uno dei migliori insieme a Maicon E' un giocatore molto molto valido Solo i 24 anni è brasiliano Potrebbe darvi il problema dell'extracomunitario Anche se gli mancano tipo 2000 giorni per prendere la nazionalità tedesca Comunque è un giocatore veramente fantastico Sia per l'età ma sia per le qualità tecniche, mentali e fisiche Non chiede manco tanto di ingaggio Ricordatevi sempre che qua siamo col Milan Quindi tendono sempre a chiedere qualcosina in più Però raga veramente ve lo consiglio Io non vi sto facendo più vedere la storia dei giocatori Perché sennò veramente qui possiamo... Ci dilungheremo troppo Anche se comunque alcuni ci hanno grandissima esperienza Come appunto Maicon che ha un curriculum abnorme E' un giocatore veramente importantissimo Qui chiede tantissimo In teoria anche nelle squadre di media, bassa classifica Poco non chiederà Però sicuramente non chiede 2 milioni E' un giocatore eccezionale Ha sì 34 anni Ma almeno 1-2 anni ad alti livelli Li può fare benissimo Mentalmente è un mostro Fisicamente regge bene Nonostante i 34 anni E tecnicamente veramente non c'è nulla da dire Un giocatore fantastico Che potrebbe veramente giocare in qualsiasi ruolo Anche a centrocampo Anche in attacco quasi E anche come ala Perché veramente ha dribbling, tiro, finalizzazione Tiri da lontano, intendevo finalizzazione Veramente è un fenomeno E ve lo consiglio Sicuramente avrà un calo Non so se è il primo anno Non so se è il secondo anno Ma almeno al 100% un anno ad altissimi livelli Ve li fa Poi ci sono due giovinastri Di 21 anni Che potrebbero diventare giocatori comunque Non male Ce ne sono tanti di giocatori Con circa 3 stelline Di cui uno è scurata Che potrebbero appunto diventare giocatori discreti Ma ho preferito consigliarvi giocatori Che già attualmente sono discreti Ad esempio questo Cissaco Potrebbe essere una buona riserva In una squadra di bassa media classifica Si prende veramente con due spicci Circa 200.000 euro E comunque già adesso non è male Poi ha 21 anni Quindi ha ottimi immagini di crescita E sicuramente può diventare Molto valido Come anche questo Julian Che ha appunto 21 anni Lui tecnicamente è meno valido Però mentalmente ci sta Fisicamente pure deve crescere anche lui Però lo può fare ragazzi Poi lui ancora meglio Si prende con 40.000 euro Quindi non è manco questo investimento Così grande Sicuramente dovete farlo allenare Nell'ambito tecnico Questo è poco ma sicuro Ma è un investimento di 30.000-40.000 euro Quindi anche per una serie B Potrebbe essere buono Poi se cresce ancora meglio Poi c'è Leandro Salino Del brasiliano anche lui Un po' più esperto 31 anni Si prende con circa 400.000 euro di ingaggio Però è un giocatore veramente valido Mentalmente fortissimo Fisicamente pure si regge bene Poi a 31 anni Non ho ancora visto benissimo Qui il calo quando si ha Però comunque almeno un anno Ad alti livelli li può fare Tecnicamente pure Non è messo male Quindi è un giocatore comunque Abbastanza valido Anche qui per una squadra di media classifica Lo può fare tranquillamente Il panchinaro Non dico tanto il titolare Semmai il titolare è una squadra Tipo il Crotone Ecco Senza che me ne vogliano I tifosi del Crotone Poi c'è C.H.T.N.E Un altro 34enne Però ragazzi Questo si prende veramente con poco Circa 150.000 euro Fisicamente è molto valido Mentalmente è molto valido Tecnicamente Non è Mycon ragazzi Questo lo vedete anche da voi Però è un giocatore Che può dire la sua Può darvi una grande mano Lo potete prendere veramente Con due soldi E appunto come Panchinaro È molto valido Non so perché mi ha cambiato Questa visuale Poi c'è Chavez Messicano Si prende con circa 400.000 euro 375.000 Poi se siete bravi Ragazzi Anche con 325.000 euro A me è capitato Anche di prendere giocatori A meno Del valore minore Questo semmai Offrendogli qualche bonus In più Che ogni tanto Possono essere veramente utili Diciamo che la sua unica pecca È la determinazione Che è 3 Però per il resto È un giocatore Che può dire la sua Se non avesse Questa determinazione Che potrebbe anche fare Il titolare Secondo me In una squadra di bassa Media classifica Idem comparate Per Vargas Lui è anzi Molto più forte Tecnicamente Validissimo Mentalmente validissimo Pure fisicamente Non è male Ha 32 anni Quindi almeno 1-2 anni Ad altissimi livelli Li può fare E poi Grandissima esperienza Soprattutto nel campionato italiano Quindi se allenato in Italia Può essere molto utile Ha una pecca La richiesta dell'ingaggio Avendo giocato Con la Fiorentina Se non sbaglio Mi riesce Mense Sì Diciamo che le sue pretese Non sono proprio bassissime Però insomma È sicuramente un giocatore Su cui puntare Perché è molto Molto valido Come anche Riccardo Osorio Anche se lui È un po' più vecchiotto Però l'ho messo Perché comunque È un giocatore Che è abbastanza interessante Può giocare su tutti i tre ruoli Però io come difensato centrale Non lo metterei mai Perché è abbastanza basso Ho un colpo di testa basso A massima elevazione è bassa Però come terzino È valido Mentalmente è ottimo Fisicamente Finché regge È ottimo E tecnicamente Essendo un terzino Non è affatto male Quindi proprio per questo L'ho voluto mettere Ragazzi Ci sono tanti nomi Questo perché? Perché A parte Che a qualcuno Può piacere Danilo Soares Ad altri Che ne so Vargas Poi può anche capitare Che voi cercate di prendere Vargas E non ci riuscite Perché vuole andare In un'altra squadra Allora Con una lista così ampia Come dico sempre Cioè per tutti i gusti Per squadre di alta classifica Per squadre di bassa Per squadre di serie B Per squadre che possono permettersi Un ingaggio molto alto Per squadre che invece Possono spendere 50.000 euro Veramente c'è Ce n'è per tutti Proprio per questo Preferisco fare queste liste Così grandi Per essere esaustivo Per appunto Cercare di mettere Veramente tutti i migliori Anche se ripeto Lo so È una lista di 38 nomi Ma se uno deve fare le cose per bene Le deve fare Ecco Secondo me Per me Questo è il modo più giusto Poi c'è Costant 29 anni Un giocatore anche lui Con circa 400.000 euro Ve lo portate a casa Tecnicamente non è male Mentalmente ha qualche pecca Fisicamente invece Molto molto valido Poi a 29 anni Sicuramente 3 anni Ad alti livelli Li fa E È una squadra in media classifica Anche lui Il panchinaro lo può fare Ma Sembra anche il titolare Sempre per una squadra di bassa Poi c'è Benoit O come lo volete pronunciare Il camerunense Di 34 anni Diciamo che Adesso stiamo vedendo Giocatori non proprio Giovanissimi Lui mentalmente Molto molto valido Fisicamente pure Diciamo che regge Anche se secondo me Lui Un anno E poi Arrivederci e grazie Secondo me È quel giocatore Che può essere O proprio L'ultima alternativa Come terzino O comunque La riserva Per una squadra Di bassa classifica Che si prende Con circa 200.000 euro E poi Insomma Può dire ancora La sua A meno per un anno Lo può fare Senza troppi problemi Un giocatore invece Di grandissima esperienza È Bozingua Lo conosciamo Veramente tutti 33 anni Quindi nemmeno 34 anni O 36 anni Ovvio che Lui Anche lui Potrà fare Solo 1 o 2 anni Ad alti livelli Ma questo Secondo me In una squadra Di Media classifica Può fare benissimo Il titolare Può veramente Può giocare come difensore centrale E lo può fare Abbastanza bene Può fare il terzino Sinistro Può fare anche l'esterno E è un giocatore Comunque Importantissimo Anche uomo Spogliatoio E soprattutto Nonostante la sua Grandissima storia Perché comunque È stato nel Chelsea Nel Porto Nonostante tutto ciò Comunque Chiede abbastanza poco Circa 400.000 euro Ma anche 350 Lo portate a casa Io non l'ho preso nel Chievo Perché appunto C'era Il mitico Costano E poi a noi ci serviva Un terzino sinistro A destra Ero obbligato A prendere Il mio mitico Peruzzi Costant Ho preferito Metterlo come terzino sinistro Perché se no L'avrei dovuto mettere Come trequartista E sinceramente Costant Anche per la sua Esperienza Per la sua carriera Ha più giocato come terzino Che come trequartista Anzi Mi sa che ha giocato solo Come terzino E comunque Niente da dire L'ho preso anche io E non che questo sia Una cosa in più Però comunque Per farvi capire Che è un giocatore Che sta facendo bene Nel nostro Chievo Un giocatore comunque Interessante Che si prende veramente Con poco E a noi sta facendo il titolare In una squadra Che comunque è terza In classifica Ovvio Non credo che finiremo Il campionato In quella posizione Però questo significa Che sta giocando bene Anche lui Perché se alla fine Una squadra come il Chievo Arriva terza Cioè sta In terza In terza posizione Significa che tutti O quasi tutti Stanno facendo bene Ma lo assicuro Che Costant Sta facendo veramente bene Ecco Garix Un giocatore Che ammetto Stavo per prendere A posto di Gino Peruzzi Perché Per Peruzzi I primi giorni C'era un bug Dove il Boca Mi chiedeva 150 milioni Allora Mentre cercavo Diciamo un'alternativa Un po' più low cost Rispetto ai 150 milioni Stavo per prendere Garix Perché Sicuramente lui Un anno Ad altissimi livelli Li può fare E Lo consiglio anche Come titolare In una squadra In media classifica Tecnicamente Ci sta di brutto A parte Il controllo di palla Ma per il resto Veramente molto molto valido E un ottimo Terzino Anche marcatore Perché Marcatura e contrasti Ottimi C'ha comunque pure Un ottimo cross Quindi Un giocatore che Su cui puntare Anche impegno Determinazione Mentalmente È molto valido Diciamo L'unica pecca È la velocità 11 E l'accelerazione 12 Più la velocità Questa secondo me È l'unica pecca Di Garix E vabbè I 32 anni Però insomma Un altro anno Ad alti livelli Li può fare Poi lo potete prendere Veramente con due spicci Circa 300 mila euro E quindi Insomma Ve lo consiglio Poi vabbè Due spicci Sono sempre relativi Ho scritto su Facebook Che sto facendo Una carriera Da disoccupato E mi raccomando Se non mi seguite su Facebook Andate a mettere Il mi piace E Diciamo Il budget In Gaggi Nella squadra Che sto allenando Che in serie Bi-Ucraina È 250 mila euro Quindi diciamo Che per là Non sono due spicci Ma sono tutto il budget Comunque c'è Gigliano Winaldum Un giocatore Molto molto interessante Perché molto giovane 23 anni Si può prendere Con circa 400 mila euro Esagerando E mentalmente ci sta Fisicamente ci sta Tecnicamente pure Non è male Come riserva In una squadra Di media classifica Lo farebbe Senza troppi problemi E poi soprattutto A 23 anni Quindi almeno altri 2-3 anni Per crescere Anche se ad agosto Ne farà 24 Quindi almeno 2 anni Per crescere Ce l'ha E potrebbe comunque Diventare Un buon giocatore Gli Avica Sembra un nome Un po' strano Perché Gli Avica Vabbè A parte queste stronzate A 31 anni 325 mila euro Con circa 400 mila euro Massimo Proprio lo portate a casa Mentalmente Fisicamente È Mostruoso Molto valido Tecnicamente Diciamo Ha Un po' di pecche Però Diciamo I tre parametri principali Contrasti Cross e marcatura Sono validi Diciamo Dribbling 9 Controllo di palla 9 Tecnica Bassa Finalizzazione 5 Sono le sue pecche Però È comunque Un giocatore Che con 400 mila euro Lo portate a casa È come riserva Veramente Può dire la sua Poi Lui può fare Entrambe le fasce Senza troppi problemi Oddio Come terzino e sinistra Non è proprio il massimo Però Insomma Potrebbe farlo Senza troppi problemi Anche se lo fate allenare Poi c'è Giovanni Marchese L'italiano 31 anni Diciamo che Lui l'ho messo Perché c'erano veramente Pochi di italiani E poi perché comunque Anche lo staff Mi diceva che Non era male Mentalmente Tecnicamente Non è affatto male C'è comunque passaggi Rimesse lunghe Tiri da lontano Marcatura Cross Contrasti Diciamo Non spicca Per controllo palla E dribbling Però per il resto Non è male Diciamo che fisicamente È abbastanza Distrutto Perché ha velocità Bassa Accelerazione Bassa Quindi semmai Ve lo consiglio Proprio come ultima Alternativa Se vi serve Terzino Sinistro E non lo trovate Lui potrebbe essere Una valida Alternativa Eden con patate Per Damian Mentalmente Tecnicamente Forse anche Un po' più valido Fisicamente Stiamo lì Comunque A velocità 14 Resistenza Massima Elevazione Però Accelerazione 11 Diciamo che Come riserva Per una squadra Di bassa Media classifica Può dire la sua Anche se Non chiede Proprio Pochissimo Ebuè Capitolo Ebuè L'avrei voluto Prendere Anche al Chievo A posto di Peruzzi Se non riuscivo Appunto A prenderlo A 3 milioni 8 Però E' squalificato Per un anno Sono andato a leggere Un po' la sua storia In pratica Lui non ha pagato La gente Almeno a quanto dicono Cioè non vorrei essere Poi Quellerato E a quanto dicono Non ha pagato La gente Se non sbaglio E quindi E' squalificato Per un anno E questo è un Brutto colpo Ovviamente Nella realtà Per il giocatore Ma anche per Noi allenatori Di Football Manager Perché Ebuè Come Col Marsiglia E' un giocatore Su cui puntare Perché Esperienza Alle stelle Tecnicamente Mentalmente Fisicamente E' molto Molto valido Ovvio 33 anni Quindi avrà un calo Però ragazzi Un giocatore Con circa 180 200 mila euro Ve lo portate a casa E veramente Come riserva Ma anche come titolare Può dire la sua Peccato per questo fatto Io l'ho voluto mettere Perché nel caso poi Nel 2017 Regge ancora bene Potete puntarlo Ci potete puntare Perché Sicuramente Un giocatore che Almeno quest'anno Poteva ancora Dire la sua Come anche Giovanni Pasquale Giocatore comunque Anche di ottima esperienza Nell'ambito italiano Nell'Inter Siena Parma Livorno Udinese Giocatore comunque Interessante Un terzino sinistro Niente male Che si prende Con un po' più di soldi Rispetto agli altri Circa 450 Però Mentalmente Non è male Fisicamente Diciamo che Scarsissimo Non è Tecnicamente Pure può ancora Dire la sua Se cercate Un giocatore italiano Puntate su di lui Ho voluto mettere Questi due italiani Ce ne saranno Anche altri Ho preferito mettere Qualche italiano in più Perché Ho notato Soprattutto Sotto a molti commenti Che voi ci tenete Diciamo A La nazionalità A portare avanti I giocatori italiani Quindi Se cercate Anche uno svincolato Italiano C'è Marchese Pasquale E poi anche Altri due Che andremo a vedere Dopo Anderson Santana Brasiliano Di 30 anni Questo è un giocatore Veramente molto valido Tecnicamente E mentalmente Fisicamente Diciamo a velocità 11 C'è l'azione 11 Queste sono le sue pecche Però raga Per il resto Veramente tanta tanta roba Ve lo consiglio Si prende con circa 300.000 euro 350 Proprio massimo Ma Il giocatore E veramente Validissimo Che vi consiglio fortemente Stavo vedendo Se mi ero dimenticato Qualcuno Per fortuna No Kevin Un altro giocatore Che comunque Non è male 26 anni Con 400.000 euro Quello portate a casa Fisicamente E mentalmente Ci sta E tecnicamente Non è ovviamente Il nuovo Roberto Carlos Però Non è male Insomma Come alternativa In una squadra In media classifica Non è affatto male Ida incompatata Per Juan Valera Anzi lui Secondo me Potrebbe anche fare il titolare Se non fosse Per l'accelerazione 11 Però per il resto Nulla da dire Tecnicamente Molto valido Mentalmente Pure molto valido Diciamo L'unica pecca È l'accelerazione 11 Però raga Con 500.000 euro Vi portate a casa Un buon Terzino destro Che vi consiglio Fortemente Come anche Marc Bertrand Anche se lui Ha 34 anni Però lui Si prende con 200.000 euro E come ultima alternativa Più che altro Per le doti fisiche Può dire Ancora la sua Mentalmente valido Tecnicamente Pure non è scarso Quindi Ve lo consiglio C'è anche Sisigno Che non è quello Della Roma L'avevo messo Anche nella lista Quello ex Roma Però poi Per limitare Un po' I nomi L'ho scartato Anche se devo ammettere Non è proprio Scarsissimo Quello della Roma Però lui Ancora più forte Tecnicamente Ci sta Mentalmente Ci sta Fisicamente Pure È molto Molto valido Questo se un nome Come riserva Ultima alternativa Anche in una big Più che altro Per quanto concerne Le italiane Ovvio che non è che può fare La riserva Nel Barcellona Può Dire la sua Perché alla fine Ragazzi Fra big italiane Big Spagnole Inglesi C'è una bella differenza A meno che Non parliamo di Juve Però insomma Sicuramente Posso dire La loro Come anche Che ne so Un Costano Secondo me Come riserva In una big La può fare Appunto Era anche Giocava anche nel Milan Anche se nella realtà Benissimo Non ha fatto Però nel gioco Sicuramente Può dire la sua A posto Che ne so Di un Antonelli Stavo pensando Appunto al Milan Di Di De Sciglio Nel caso Cedete qualcuno Di loro Anche perché Il Milan Come Terzini Sta abbastanza Messo bene Ma vabbè Sti cazzi E nel gioco Ovviamente Ti le dico Poi c'è Schulz Un giocatore Con circa 3.50 euro Portato a casa Tecnicamente Non è male Mentalmente Alti e bassi Fisicamente A parte l'accelerazione 11 Veramente nulla da dire Poi ha solo i 27 anni Quindi anche lui È un giocatore Su cui può puntare Come anche Marcello Santos Poi ha solo i 25 anni Con 400.000 euro Per portato a casa Fisicamente è buono Mentalmente E tecnicamente Nulla da dire È un giocatore interessante Contrasti e marcatura Un po' deve Migliorare Non è la sua dote Migliore L'ambito Difensivo Infatti addirittura Me lo dà Come esterno Completo Però ragazzi Può ancora crescere A meno 1-2 anni Massimo Come margine di crescita Più o meno Però insomma Scarso Non è Come anche questo Maxim Baca Lui potreste anche Provare a prenderlo Per una serie B Ma anche come riserva Per una squadra Di media classifica Fisicamente E mentalmente Non è male Tecnicamente Ha qualche pecca Però Almeno un altro anno A buoni livelli Li può fare Danilo Terracia Tarraccia Invece è un giocatore Che mi piace tanto Perché è molto completo Sia tecnicamente Che mentalmente Anche fisicamente Non è affatto male Si prende con massimo A proprio massimo 300.000 euro Ed è un giocatore Che almeno altri due anni Ad alti livelli Li può fare Secondo me È valido Perché Molto completo Anche per Pensare a farlo Gioca titolare Non è proprio Un'idea Malvaggia Come anche il mitico Felipe Mattioni Ragazzi Un giocatore che L'ho preso all'ultimo Al chivo Però raga Ammetto che Stavo anche lui Per prendere A posto di Peruzzi Perché A parte L'unica sua pecca È il fatto che Diciamo si infortunia Abbastanza Facilmente Non mi veniva benissimo La parola È propenso Agli infortuni Ecco Però Poi per il resto Si prende con 400.000 euro Perché Questo è il percetto Noi lo paghiamo 368.000 euro Questo perché Perché Voi più andate avanti Nel gioco Più i giocatori Se non sono stati presi Da altre Chiedono meno Quindi visionateli Metteteli anche Come nella lista Preferiti Perché così Vi dice anche Se qualche squadra Gli ha affetto un contratto Perché in quel caso Poi Vi dovete Fiondare Diciamo che a volte È meglio aspettare Altre no Perché se poi Arriva un'altra squadra Che gli offre Un botto di ingaggio Giustamente Poi il giocatore E la gente Tendono a chiedere Molto di più Di quanto Avrebbero chiesto Se la squadra Un'altra squadra Non gli avesse offerto Il contratto E Ovviamente Ragazzi È difficile Come nella realtà Dovete giocarvela bene Ma Questo è il bello Di Football Manager Comunque Tecnicamente Mentalmente È fantastico Fisicamente Non è male A parte il fatto Appunto Degli infortuni Poi c'è questo Giocatore Che non pronuncerò mai Nella vita Che Diciamo Un po' indeciso Se metterlo o no Però comunque Con 300.000 euro Portato a casa È un giocatore Che tecnicamente Non è male Mentalmente Alti e bassi Fisicamente Non è malissimo A parte velocità 11 Che comunque Schifo Non fa Potrebbe senza Troppi problemi Fare La La riserva Poi può anche Giocare Come esterno Quindi Esterno alto Quindi veramente Può essere Un bel jolly Poi c'è Lino Marzorati Appunto L'ho messo Anche lui Sia perché Non è scandaloso Ma anche per il fatto Della colonia italiana Se vogliamo chiamarla così È un giocatore Che Può giocare Come terzino destro Può giocare Anche come difensore centrale Lui Per una serie B Può andare bene Per una Bassa Media classifica Come riserva Può essere pure utile Può essere appunto Utile Come jolly Perché può giocare Sia come difensore centrale E come terzino destro Potrebbe essere anche un po' Il sardo Della situazione Visto che sapete Che io tengo sardo Perché può giocare Sia come terzino sinistro Che difensore centrale Che terzino destro E lui potrebbe farlo Senza troppi problemi Qua Milan Chiede Sì 400.000 euro Ma Sicuramente Una squadra di più bassa Classifica Ne chiederà Non dico la metà Ma quasi È un giocatore Comunque Abbastanza interessante Come anche Bocali Bocali è un giocatore Che me lo ricordo Non benissimo Perché Lo stavamo per prendere Al Wigan Ma poi non Non è più voluto venire Bastardo Oppure mi pare Che quando lo volevo prendere Poi aveva appena firmato Con un'altra Ugualmente Bastardo Però appunto Vi fa capire Che è un giocatore Che almeno L'anno scorso Andava addirittura In championship Quindi in terza serie inglese Ma ovviamente Ragà Sono cose Differenti Purtroppo Cioè no Purtroppo Per fortuna Anche nazione per nazione C'è molta Molta differenza Ripeto Il budget di serie B Del campionato Di seconda serie Ucraino Alla metà Del budget Di una squadra Di serie Di italiana Quindi Per farvi capire Che le cose Sono molto differenti Questo anche per fortuna Però comunque Bocalini In una serie B italiana Secondo me Potrebbe anche Venire E può anche fare Insomma La riserva In una squadra Di bassa Medioclassifica Come ugualmente Per Marco Motta Oramai sono due anni Che è svincolato E sono due anni Che bene o male Ve lo consiglio Perché comunque Non è affatto male Può veramente dire la sua Poi comunque È una buona esperienza Quindi Mi pare anche internazionale Se non sbaglio Sì infatti Ha giocato anche In Watford E poi Nel Charlton E insomma Diciamo che poi Ha giocato anche Nella Juve Anche se è giocato È un parolone Bologna Genoa Insomma È un giocatore Su cui puntare Sempre se cercate Un italiano Anche a poco prezzo Rogerio Brasiliano Lui veramente Con due spicci Ve lo prendete Fisicamente Mentalmente Nulla da dire Tecnicamente Ha un po' il cross Che fa schifo Il dribbling pure Però Cioè schifo A 9 Sarebbe meglio Un 10 O un 11 Però insomma Non si può avere tutto Nella vita Soprattutto Che volete Da un giocatore Che chiede solo 150.000 euro E ripeto Come riserva A bassi livelli Lo può fare Come anche casato Lui ha soli 29 anni Con massimo Proprio 200.000 euro Per portare a casa Fisicamente E mentalmente Non è male Tecnicamente Non è proprio Un mostro Però Come riserva Non è male L'ultimo E Albert Riera L'ho voluto mettere Perché mentalmente Tecnicamente Molto valido Può giocare Veramente Su tutti i ruoli Della fascia sinistra Quindi Terzino Terzino Più avanzato Esterno E ala Quindi diciamo Che Li può fare tutti E è un giocatore Comunque Relativamente Interessante Se cercate un giocatore Di esperienza Che Chiede Veramente Due spicci Detto questo Come dico Sempre C'è veramente Per tutti i gusti Giocatori Per squadre Di alta classifica Come appunto Maicon O anche Soares Secondo me Può giocare Benissimo Che ne so In un Napoli Può benissimo Fare la riserva Se vendete Strinic Soares Veramente Può essere Il valido Sostituto di Coulam Può essere Lì 24 anni Quindi Ha anche margini Di crescita Ma pure Maicon Se vendete Maggio Vabbè Mi sono fissato Con Napoli O Milan Ma perché Sono due squadre Che conosco Abbastanza bene Comunque Per il resto Veramente Sono giocatori Per tutte le squadre Per tutti i gusti Per tutte le tasche Mi raccomando Come sempre Scrivete qui sotto Nei commenti Se ci sono altri Terzini Validi Che si potevano Unire In questa Inserire In questa lista E niente Poi fatemi anche sapere Se preferite Il video Dei Wonder Kids Il sabato O la domenica Per me Ripeto Non cambia molto Semmai è sabato Sempre alle 2 La domenica Tipo verso Mezzogiorno Luna Visto che comunque La domenica Non c'è scuola Non ci dovrebbe essere lavoro Quindi C'è anche C'è Uno può anche Vederlo prima Il video Poi vabbè Come sempre Vedetelo Quando vi pare Sto fatto di orari Non l'ho mai capito benissimo E niente ragazzi Come sempre Spero che questo video Vi sia piaciuto E spero soprattutto Che vi sia utile Commentate a bomba Anche like a bomba Condivisioni a manetta Sempre veramente Grazie per tutto E come sempre Un saluto Mike94 Ovviamente Football Manager Italia Ciao ragazzi